Tu lo sai che il mondo non ti accetta mai per quello che sei Sei più libero, sei più libero Basta, grazie No, sono scherzato Un applauso No, io sono usato quel canale, bravo come noi Lei è molto... E a Gidella, e a Gidella E a Gidella Se già stava G-Max Vi salutiamo, tra l'altro G-Max e Ruda Io volevo chiederti una cosa, una cosa un po' privata Tra l'altro adesso, tra l'altro dopo Qual è la parolaccia che c'è più spesso? La parolaccia, quando ti arrabbi C'è una troia, di solito porca troia Di solito è quella Porca puttana Ma basta, una le basta Mi basta col culo Stop Luca Tranquillo Luca E penso che stiamo parlando di Disney Qual è il tuo cartone animato preferito? Ce l'ho tutti Ce l'ho tutti Coda fratello orso Hai la faccia da pippo te invece Ti stai dicendo C'è la faccia da pippa rosa Che è peggio Dai che sto scherzando Non scherzando E' che Crazy è un po' pazza Si E poi c'è l'ultima Noi la facciamo squadra La facciamo dopo La facciamo dopo Diamo la possibilità agli amici della chat di Alice Di fare qualcosa Perché siamo quasi Cosa cerchi in una ragazza? Se c'è qualcosa Cerco che sia più intelligente di me E se una ragazza volesse conquistarti cosa deve A dove dovrebbe arrivare? Qua Deve essere molto femminile Deve cercare di evitare di dire parolacce queste cose qua Ok E soprattutto di che sappia dare quello che deve dare al momento giusto E non stia lì a menarsela troppo Quindi inizierò Certo Poi un'altra domanda Come incogliere la tua vita privata con quella da cantante? Come riesci a... Ma lo sai che io sono un tipo poco mondano Quindi non... L'importante è non... Non andare... Non frequentare sempre feste mondane Così la tua privacy rimane intatta Certo Altre domande che arrivano? Un po' più di grinta Eh no perché Praticamente abbiamo fatto quasi tutto Quindi sto cercando... Vabbè allora chiudiamo Se non abbiamo più niente da chiedere C'era tutto di chiudere Bella Quindi però... Ricordiamo via Ricordiamo via Ricordiamo via Grazie mille a voi Guardate che c'è Una lampadina Ecco a posto Ricordiamo che High School Musical È possibile... È possibile vederlo sabato Sì Va su Disney È su Disney Channel Quindi... Guardatelo tutti ragazzi E rimarrete sorpresi dalla bravura di questi ragazzi È un ottimo film Basta dire che in America ha spopolato In Italia sta E anche un po' grazie a Luca Sta spopolato anche qua Eh beh... Tu sei grazie Oggi vi faccio la colonna sonora del film Una canzone Una canzone Grazie a Luca E rientriamo quando... Lunedì noi ci siamo Lunedì con ospite J-AX Ok allora ci vediamo con J-AX Ciao ragazzi Ciao 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 Ciao